ci siamo, ci siamo, ecco qua benissimo, benissimo buonasera, capitano Galgano dobbiamo un po' organizzarci meglio all'inizio di questa diretta perché abbiamo sempre un po' di singhiozzi io e te purtroppo il capello bianco si vede anche nella nella trasmissione di queste dirette come stai? nei tempi di reazione sono molto lenti, come stai? tutto bene tutto bene ti sento come al solito entusiasta sei tornato a Milano la mia solita verve la tua solita verve che è proprio profonda da queste dirette, che è proprio come diresti tu roba da far scendere il latte meno male che stasera abbiamo tu l'hai scritto bene nel post di lancio di questa diretta abbiamo, possiamo dirlo un'esclusiva mondiale un'esclusiva straordinaria noi siamo felicissimi perché perché lui concede pochissime interviste ma neanche a volte non si guarda neanche davanti allo specchio la mattina proprio perché lui è un tipo riservato eppure ha fatto delle cose strepitose, meravigliose naturalmente e anche e anche stasera non si svelerà cioè lui rimarrà coperto vedrai ma chi siete ma chi siete l'anonima sarda voi due ma lui c'ha un motivo lui c'ha un motivo io no lui c'ha un motivo ecco io l'ho beccato così prima che ho beccato sta per entrare e mi ricordo che l'ho visto bravo appena entra però io vorrei presentarlo eccoci sta entrando eccoci qui allora tanto non si vede prima di presentarlo facciamo vedere che cose meravigliose che fa questo si vede eccolo qua questo ad esempio io l'ho trovato e me lo ricordavo guardate è da matto è da matto questo questa non si svela perché è un matto scatenato poi dopo torneremo a vederlo ma tanto solo questo filmato ne ha più di 700.000 visualizzazioni Galgano come al solito a te la gioia di presentarlo proprio con tutto lo sprint che solo tu sei dare vai no ringrazio tantissimo di essere questa sera Raffaele che è un amico è un genio siamo 250 si è schizzata la pagina col suo ingresso benvenuto Raffaele Raffaele grazie 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 dell'invito grazie a te grazie ricordiamo si dice così tre lame studio è così? si è così è in italiano come si legge in italiano? perché io la prima volta che ho cominciato a vederti puntavo anche a qualcosa di inglese tre lame studio stamp però le lame vi hanno ricordato le lame di Polignano le lame hai a che vedere con quella zona geografica o neanche questo si può dire no sono diciamo vicino alla zona di acqua viva acqua viva bene bene allora vivi vivi in un paradiso in terra perché acqua viva delle fonti il nome è già tutto un programma Raffaele tu tra l'altro la tieni la cipolla rossa più buona di tutto l'universo no no si sta bene si sta bene si sta bene tu te lo mangi il calzone di cipolla sì sì io mangio tutto però il calzone di cipolla di acqua viva no il calzone è fantastico sì è fantastico allora Raffaele noi non parleremo di te aspetta aspetta solo una cosa fa specie sentire la voce del nonno del nonno Cozzalo sì infatti ecco nel frattempo facciamo entrare un amico non so se c'è io l'ho invitato vediamo 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 il nonno Cozzalo vedi come tutti scrivono voglio sono felici compaesare lo so lo so ringrazio tutti eh Raffaele ma tu hai fatto una cosa meravigliosa senti tanto la domanda è sempre quella però visto che abbiamo quest'occasione com tav nut perché l'idea in sé no è fortissima tu sei pop nel senso più alto del termine perché tu hai mischiato tutto attraverso un fumetto e tiri fuori delle storie che spesso sono esemplari o sbaglio no senti in realtà diciamo la partenza è stata alquanto non è stata voluta la voglio dire il fatto dei cartoni animati sono partito divertendomi poi ovviamente con gli strumenti che abbiamo oggi giorno facebook youtube c'è stata diffusione quindi ma è una diffusione straordinaria tu hai calcolato quante visualizzazioni insieme sino ad oggi senti io sono su youtube ho fatto più di mezzo miliardo mezzo miliardo 500 milioni no no l'ho vista l'ho vista io ieri perché mi sono documentato 600 milioni e passa di visualizzazioni ma veramente Raffaele no ma tra l'altro la gente li vede siccome la posso vedere i video li vede dalla Russia dal Vietnam quindi capito scusami Raffaele ma quindi se noi mettiamo quelli che quelli insomma che vengono rivisti su facebook e sugli altri social noi possiamo dire che tu ciao aspetta chi è Daniele ciao Daniele ciao Daniele Daniele questo che non si fa vedere che è quello che sta sotto a quell'altro che non si fa vedere è Raffaele di Trellame Studio questo stiamo facendo i calcoli come minimo c'è un miliardo di visualizzazioni sul groppone ma non lo so cioè è fantastico la maggior parte ti dico che anche io non me ne perdo uno dell'episodio del nonno però questi sono numeri cioè che si prova a fare questi numeri Raffaele e a non essere assolutamente riconoscibili che questa è la cosa bella è vero senti non so come rispondere perché cioè alla fine io passo molto tempo a realizzare questi video come Daniele quindi non riesco neanche esattamente che tra l'altro Daniele questa è la prima volta che lo vedo lo stimo molto grazie mi piacerebbe pure fare una collaborazione con te ci penso stesso lo stesso lo stesso lui non può dire di te che è la prima volta che ti vede perché non deve dire Raffaele però Daniele raccogli raccogli questo ramuscello d'ulivo che la facciamo sta collaborazione che nasce sotto legge da un chiosco di Puglia un sogno che si apre stasera doveva esserci anche Nic Radogna ma non riesce perché è sull'aereo adesso sta tornando da Pisa ha doppiato ha doppiato alcuni cartoni che poi sono finiti su TG1 vero? si si doppio noi facciamo fece una serie con Lupin e lui fece la parte di Gammon me la ricordo me la ricordo e poi volevo dire dimmi dimmi tra l'altro ho anche fatto Antonio di ho anche fatto tutti e tata i vecchi pezzi non so se perché non lo so ma è come io mi dice quello degli OSIS dove alla batteria hai messo Antonio De Caro che non più tardi di una settimana fa guarda quella adesso sta a casa che c'è il covid se per caso ci sta seguendo può anche intervenire non lo sapeva vi mandò questa cosa per dire avete fatto questo filmato questo cartone animato dove ci sono io alla batteria grazie ho detto guarda che non siamo stati noi è stato non sapevo fossi Raffaele e ho detto è Trellame Studio questo è famosissimo l'avevo già detto io Urbi e Torbi e così è stato quel video è più bello della cosa vera secondo me quindi con condotta ti ringrazio no ma perché con condotta fare quello che fa lui però a fumetto può diventare deflagrante mettetevi d'accordo no ma ci penso no ma perché secondo me lui è un grande è un grande autore cioè come scrive e concepisce i video e anche il montaggio musicale e tutto il resto e quindi volevo volevo che ne so fare uno sforzo collettivo con lui che può essere anche di tipo produttivo per fare qualcosa di perché l'unione fa la forza quindi sempre bellissime queste parole è proprio ma volentirissimo volentirissimo in queste dirette stiamo ospitando tantissimi pugliesi creator eccetera eccetera ma ti dico che fra Daniele Condotta Trellame Necradonia e tutti gli altri stiamo parlando di un miliardo di visualizzazioni se le sommiamo di più ma quello solo quello questo uomo che non si fa vedere questo Raffaele da acqua ma io ti dico di più qua se la cosa prende piede con Condotta e Raffaele almeno l'iniziale del cognome o la finale del cognome si può sapere Raffaele senti è un cognome molto comune mi pare non lo posso dire con la L con la L inizia il cognome Raffaele L Raffaele L come si faceva una volta nei trafiletti di Crona che era arrestato Raffaele L specialmente quando era minorelle allora qua Galgano aspetta una cosa mi ha raccontato qui esce aspetta che qui esce il film d'animazione di Natale qui come a quel posto alla Disney Natale ad Acquaviva Natale ad Acquaviva facciamo collaborare tutti come come lui no una una volta la cipolla che fa come il leone e quando la cipolla fa come il leone stende le persone fantastico no dai vedi che qualcosa viene fuori che mi ha raccontato Raffaele che gli è capitato di andare a passeggio per la sua città e vedere i ragazzini sul cellulare che vedono i suoi video e non sanno che è lui cioè questa è una cosa assurda va beh diciamo senti io avrei pure dei motivi posso pure spiegarli in realtà in passato ho fatto satira pesante politica pura estera e quindi lo so che sto per toccare un tasto dolente però sei pensando i colleghi pure di Charlie Hebdo che purtroppo capito all'epoca certo 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 sì sì non vogliamo assolutamente essere così guaioristici una domanda comunque molto importante so che in questi giorni ti stai spendendo molto anche per la questione dell'Ucraina se ti va di parlare sì questa è un'altra cosa infatti mi sto un po' orientando gli sforzi per quanto riguarda la la guerra ma non perché voglio suonare non perché voglio sembrare pacifista o perché comunque ci sono stato in Ucraina conosco bene la cultura anche la cultura russa e ho a cuore la situazione poi comunque i baresi per esempio hanno un grandissimo legame con russi o russi ucraini anche per questioni storiche ma chiaramente oggi si parlava di San Nicola a iniziare a San Nicola ma anche noi come popolo storicamente ed è un fatto noi deriviamo da da popoli che discessero da quelle terre specie da Kiev io mi sono fatto degli studi anche per capire io da dove provengo quindi gli sforzi miei saranno concentrati nella magari farò un po' di beneficenza nell'accoglienza devo vedere un po' tu parli la lingua? sì io parlo pure il russo un po' di ucraino sì è una cosa molto nobile che ti accingi a fare visto che hai uno strumento nelle mani fortissimo perché nulla vieta a coloro i quali fanno ridere contemporaneamente di far anche riflettere coloro che li guardano potresti anche immaginare un tuo cartone animato in inglese o in russo addirittura per poter raccontare quello che sta accadendo sarebbe una cosa molto bella tra l'altro noi lo sappiamo questo si può dire tu sei anche molto impegnato nel volontariato e quindi hai veramente una delicatezza d'animo che sicuramente non viene fuori con la figura del nonno questo deve essere chiaro è vero Daniele perché il nonno è nervoso una punta una punta un'onna proprio è nervoso forte Raffaele ma come mai l'hai fatto così nervoso questo nonno senti alla fine io ho semplicemente attinto da quelle figure che esistono in tutti i paesi ma anche a Bari di personaggi così ne stanno basta andare che ne so ne stanno che poi magari sono pure di animo buono però appaiono tridiali sono rudi sono rudi dentro sono uomini veri a proposito di uomini veri condotta veniamo a te quest'uomo che si inginocchia di fronte alla fidanzata manco fosse il sacro altare ma tu sarai mai un nonno in vita tua oppure sarai sempre costretto a subire come carattere dicevo sarai sempre deciso che quando dici una cosa quella è oppure basterà una frase della tua fidanzata per piegarti e costringerti al peggio ce l'ho proprio scritto sulla carta di taglio proprio sei di particolare che mi chiego perché sta capitando pure a me in questi giorni Daniel perché ho una moglie e una figlia con il covid ho letto mi dispiace molto grazie a Dio quello raffreddorizzato quindi hanno tre dosi eccetera eccetera tutto ok e io con l'altra ma più io sto andando a comprare la lacca ci serve la lacca che stai a casa la lacca il detergente per la cosa il gelato al fondente e manco fosse incinta che non può essere perché a meno che non ci siano non l'abbia contratto con altri insomma io io in questi giorni ti sto pensando Daniele ecco questo che volevo dire sono situazioni totale sottomissione per le situazioni dei tuoi video dove il fidanzato si immaginava beh che punto no comunque scusami Raffaele situazione dei video però pur l'altra volta Daniele con la fidanzata in diretta ha fatto la sua porca figura di sottomissione adesso adesso non voglio dire prego Raffaele appunto no volevo dire che mi capita di vedere i video di Daniele lo ripeto sono veramente brillanti cioè si vede che è una delle poche persone che secondo me riesce ad affinare tutti i lati della della realizzazione del video il montaggio montaggio video quindi capito ecco perché dovremmo associarci eventualmente e pensare di perché capisco come capisce pure Antonio il lavoro che c'è dietro la realizzazione anche di pur due o tre minuti di uno sketch di una cosa io lo vedo che cioè quello che emerge è la qualità che c'è se ne rende conto ma Daniele l'altra volta ci ha raccontato intanto arriva un saluto da New York per entrambi ma Daniele l'altra volta ci ha raccontato che lui c'ha un'agendina un taccuino nel quale si scrive tutte le idee poi quando sviluppa questa idea la scrive poi dopo che l'ha scritta la gira poi dopo che la gira la monta poi dopo che la monta la rivedo non ci piace posso fare una domanda a Raffaele io ho detto io certe volte vedo dei video che durano due o tre minuti e alla fine mi sembra di essere dentro un'allucinazione totale perché personaggi che spuntano tutte le parti psichedelici ma dove li prendi come ti vengono lì dopo ai Scezgardi c'è quella gente totalmente a caso no senti in realtà lavori di notte di la verità prendi qualche sostanza che aiuti o lavori di notte o lavori in una stanza piena di fumo capisci a me perché la cosa è normale allora di la verità come esempio quest'inizio sono organizzato una bella agenda di lavoro quindi i disegni li faccio solo io certe volte mi faccio aiutare pure però chiaramente quando metto tutto insieme sembra che è una grossa produzione per quanto riguarda invece il lato visionario poi nel fare i disegni mi regolino idee bizzarre che scrivo a parte e poi disegno a parte le monto e quindi viene fuori sta cosa strana insomma Raffaele ma tu sei fidanzato o sposato questo si può dire non no al momento sono single perciò c'è tutto questo tempo da vedere che sei fidanzato o sposato come ad essere legato con le orecchie proprio così Raffaele un'altra cosa questo abbiamo capito che quello che sta sotto di me nel senso buono del termine ci metti un bel po' di tempo tu per fare tre minuti di girato di disegni quanto ci metti senti dipende per esempio l'altro giorno proprio ieri misi il video Insinna Flavio Insinna all'eredità con Putin che gli chiede gli fa le domande tipo Coca-Cola o vodka siccome i disegni più o meno ce li avevo già fatti quindi se ne andranno due giorni tre giorni però se devo ridisegnare tutto le ambientazioni le sceneggiature le persone le labbra gli occhi se ne può andare due settimane tre settimane perché uno vede quei tre minuti e dice che figata c'è un lavoraccio dietro poi nel tempo mi sto organizzando con le cartelle quindi siccome io i personaggi li metto sempre tipo a mezzo busto con le mani che escono che fanno i gesti quindi chiaramente sono animazioni già salvate che riutilizzo però a me piace cambiare perché non voglio dare l'idea di uno che fa sempre le stesse cose sono alla ricerca di nuove cose per quanto riguarda invece il linguaggio uso un linguaggio preistorico cioè non è che poi se infatti è giustissimo ma deve essere così anche perché insomma no ma allora Raffaio una richiesta ti voglio fare io ma Antonio può doppiare qualcosa Daniele Condotta possono doppiare qualche personaggio ma guarda che no è come poi ci scambiamo i numeri è come ma certamente io i fumetti io guarda presentai un anno e poi l'ha fatto presentai un anno ad un festival del libro un'autrice americana che era specializzata in thriller in storie anche sanguinose e dissi guarda mi fai diventare un personaggio di un tuo romanzo e mi fai morire oh quella l'ha fatta ha trovato in questo romanzo che è uscito in America c'è questo italiano che è un poliziotto un secondo ruolo insomma che va in questa casa e viene sgozzato da questo serial killer e ha raccontato come se fossi io quindi ho scoperto pirandellianamente che è bellissimo essere personaggi di una storia no ma la cosa bellissima del doppiaggio io ti dico quando vedo Nicradonia cioè non vedo Nicradonia vedo il personaggio doppiato da Nicradonia riconosco la voce perché è un personaggio e quindi vedere i suoi personaggi con le vostre voci sarebbe ancora sarebbe bellissimo e poi noi in Puglia qua già abbiamo i signori miliardi di visualizzazioni ma noi in Puglia abbiamo quell'altro che va sempre a propaganda Daniele ricordami il nome quello è un altro mostro sceso in terra quello che ha cominciato con il doppiaggio di Mick Jagger cioè da morire Fabio Cerenza 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 è pugliese è pugliese appunto quello è un altro quello è uno di noi allora lo dobbiamo invitare allora lo dobbiamo invitare lo posso speriamo che si fa vedere se riesce a farlo anche live mentre viene filmato è incredibile incredibile è incredibile insomma queste sono tutte nuove forme di comicità che secondo me raccontano di una creatività made in Puglia che andrebbe studiata perché sono cose divertenti questa sì è vero o no? assolutamente sì Daniel tu adesso a che stai pensando? io ho la pasta al forno di Stasir che è stato di là l'abbiamo preso a caso l'abbiamo visto che l'abbiamo intercettato la battutaccia non deve mancare mai sulla tavola del guitto fai bene fai benissimo io sono perfettamente d'accordo con te Gigi non frega non è che noi dobbiamo andare a presentarci in politico dobbiamo sembrare belli belli no oddio calcolare chi sta stiamo passando siamo alla satira politica e la occhio occhio Raffaele non mi devo scurare pure io non mi ho scurare io no ma sono cose la satira politica comunque cerco sempre di farla di non prendere troppo parti estreme o essere troppo cattivo con la religione cioè sono sempre moderato ecco ma poi è meno male e ti devi nascondere figuriamoci no dico però e questo lo possiamo dire senza essere smentiti che se proprio bisogna prendere qualcuno è sempre meglio è sempre meglio prendere di mire i potenti perché è troppo comodo prendere di mire i deboli quindi se lo meno loro lo sanno che è così da sempre dalla storia del mondo quindi che fa che fa non fa niente no a noi no no qualcuno ha scritto raffaele pittore scultore imitatore comico un genio assoluto no che cacchio l'hanno scritto raffaele ma perché sei anche imitatore no sì qualcosina più che altro prima e facci e facci una cosetta dai prima della pasta al forno che mi sta facendo i vogli pure a me io stasera come al solito pollo e zucchine e non dimagrisco di un grammo santi Dio dai facci una va bene va bene che vi posso fare guardi un po' po' carità questo è Massimo Troisi questo è Massimo Troisi va bene va bene fino a Daniele ce l'ha fino a Daniele proprio no fino a Daniele proprio non ci piace un po' un po' un po' sì poi ci sarebbe pure un benigno si può dire col casino della Madonna proprio se entrati indirettissima con il giostro di Cuglia Daniele condotta ma ma tutti insieme questo è benigno questo è benigno questo è benigno bravo fai una femmina e ci togliamo il pensino ce l'hai? no no femmine no non lo so fare ma nessuno di noi c'ha le femmine questo è il guai una domanda puoi lasciare libero Daniele magari facciamo entrare qualche fan che se ne sono accumulati una marea ma i doppiaggi chi li fa? uno è Nicradogna e gli altri chi so perché sento allora ritornando a fare della collaborazione io quando ho iniziato su Facebook scrivevo dei messaggi dicevo se tra di voi c'è gente che sa fare qualche imitazione scrivetemelo allora ho trovato l'imitatore del Papa che è uguale che si chiama Dino Nigro e lo saluto lo conosco è tale e quale hai ragione è tale e quale l'ha fatto anche per noi quando facciamo una diretta su San Nicola su TRM è uguale alla voce di Francesco hai ragione poi c'ho l'imitatore di Polo Villaggio ufficiale che è stato a Italia Got Talent si chiama Victor Quadrelli è uguale quindi io quando mi servono se qualcosa non la posso fare io chiamo qualcun altro e quindi i limitatori più o meno ce li ho fantastico se qualcuno non può fare una parte che è stata già scritta la bozzo io tipo potrei fare sgarbi ma non viene bene capra sembra capra ignorante capra ci provo però col fumetto sembra dai però col fumetto sembra capito sta guardando sempre il piatto della pasta aspetta sulla pagina Trellame Studio ma ci sta a dire che tu sta a vedere la pasta allora aspetti che ti faccio salutare da Pachi che ci tiene molto Pachi saluta Daniele ecco qua ciao ciao Daniele grazie mille ciao Daniele buon tutto ciao ciao Daniele ciao un abbraccio ciao facciamo entrare qualcuno facciamo entrare qualcuno intanto io faccio scendere Pachi ecco qua vai vediamo ma sono timidi Raffaele devi sapere che in questa diretta sono molto timidi però lanciamo lo stesso l'appello non solo a intervenire per salutare l'invento ti ho perso eccoci vediamo chi è questo ma anche per poter trovare doppiatori se volete doppiare i cartoni di Raffaele entrate in contatto con il Chiostro di Puglia o con Trellame Studio chi sei tu bel ragazzo buonasera sono Francesco da dove ci chiami ciao ciao da dove ci chiami da dove ti colleghi da Capurso hai mai visto un video di Trellame? no soprattutto hai mai visto che cozzalone per strada? sempre sì perché Luca è vero è Luca di Capurso certo Luca è di Capurso ed è molto ed è molto orgoglioso di esserlo e fa bene allora che vuoi dire certo l'ha portato ha fatto bene a portarlo dopo quello ho detto ha rotto tutto cioè non ce n'è non ce n'è cosa vuoi dire Raffaele Francesco perché almeno io parlo per interessi personali i miei gusti non lo so a me Nonno Cozzalo piace tantissimo Nic Radogna non voglio parlare male non mi permetterei mai però eh no non avrebbe alcun senso no ha ancora un po' di strada da fare secondo me vedendo paragonandolo anche con ruoli diversi paragonandolo a Nonno Cozzalo che si vede che ha un po' più di esperienza da dietro sinceramente sono target sono target diversi perché allora Raffaele fa un intrattenimento questa qua che sta rovinata questa Valentina Lorusso che sta rovinata poverina appena scritta ad esempio vogliamo solfrezzi quindi come vedete le persone le persone le persone stanno rovinando no stavo dicendo l'intrattenimento di Raffaele per adulti mentre Nic Radogna è per ragazzini per bambini lui ha più di un milione di follower ma sono piccoli quando è venuto da noi tutti i bambini di 10 anni ti ricordi Anto? quando è arrivato la Torre ma ci chiamavano dalla Sicilia dal Trentino e soprattutto appena poi prendevano entravano in diretta cambiavano volto e faccia perché per loro è come per noi ai nostri tempi vedere Michele chi possiamo dire Zorro perché noi vedevamo Zorro tutti e tanti la messa come al solito ci deve far diventare vecchi questo qua allora Raffaele ma tu hai fatto questo omaggio meraviglioso ma tu l'età che hai sei cresciuto pure tu insieme a noi sì beh sì ma voi eravate dai io lo so che tu sarai chiaramente abituato a queste cose ma voi eravate livelli cioè poi eravate entrambi comici una cosa un po' difficile che succeda questa cosa cioè eravate entrambi abili nell'arte di far ridere secondo me quindi tu ci vedevi e ridevi ti veriva voglia sì ecco ma soprattutto quando facevate ma soprattutto quando facevate le chiamate e che sentivo i solfrizi che facevano la parte sono un bambino cioè c'era secondo me hanno riso tutti no voglio voglio dire che anche io quello che ho apprezzato tantissimo è che spesso si vede il comico e la spalla in quel caso eravate due comici cioè in quel caso eravamo matti scatenati perché era un divertimento ecco io vi auguro di continuare a divertirvi come ci siamo divertiti noi tre perché c'era pure Gennaro ovviamente noi c'erano momenti in cui ma si vedeva si rideva proprio no ma poi avevate una bellissima coreografia e avevate secondo me idee infinite perché c'era Chiavic c'era qual è l'annunziante minopausa ma sì però qua si vedeva senza interruzione cioè io non vorrei fare i paragoni con i programmi di intrattenimento moderni il mio metro di misura è quanto rido cioè secondo me avete probabilmente era un momento magico non so come spiegarlo che non succede sempre dici bene era in quel periodo la tv territoriale catalizzava l'attenzione era veramente una grande comitiva che ogni giorno alle due si riuniva di fronte al televisore il televisore era ancora il desco il focolare domestico oggi il televisore è molto relativo diciamo per come ci ha fatto compagnia anche i social tipo facebook tipo Renato Ciardo durante la quarantena la prima quarantena certo è certo però è cambiato il mezzo è cambiato il mezzo hai capito non era più la televisione è diventato il telefonino i social è cambiato però l'unica cosa io quello che mi sento di dire per esperienza personale per esempio che almeno come sono fatto io di carattere penso che il comico l'intrattenitore deve un attimino saper dosare mi spiego perché oggi giorno siccome è tutto veloce ti vogliono sempre però ti mangiano e ti sputano bisogna pure sapersi far desiderare perché io se inizio a mettere sketch tutti i giorni mi brucio perché dicono poi arrivi che non c'è più creatività e quindi bisogna fare come fa che così avete perfettamente ragione ma è il motivo per il quale giustamente tu citavi Luca Medici è il motivo per il quale noi adesso purtroppo me lo dico da solo senza che Galgano come al solito insulti la nostra età ma noi sono quarant'anni che facciamo sto mestiere ragazzi quarant'anni abbiamo e quindi e quest'anno c'è una data importante c'è il trentennale del Polpo o di Melenzo non mi ricordo trentennale oh sei più tu di me pazzesco eh no me l'ha detto Nunziante te l'ha detto Nunziante il trentennale del Polpo il Polpo era figo pure dai era forte con sale no era tu sì sì a voglia a voglia a voglia Francesco tu che fai nella vita e poi ci salutiamo io lavoro a Bridgerton alla Bridgerton perfetto va tutto bene l'azienda fila gira tutta la grande bene ti auguriamo no perché oggi il posto di lavoro ragazzi è fondamentale per reclamare la dignità dell'essere umano proprio quindi chi ha il lavoro se lo tenesse stretto e facesse di tutto per farlo al meglio perché il lavoro è fondamentale per essere indipendenti ecco in bocca quando ti sposi Francesco quanto ti sposi io quanto ti sposi sì mai c'è la faccia che tra un po' cade dai mai 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 ci rivediamo ci rivediamo poi ci aggiorniamo ti sto parlando a 25 anni diciamo prestissimissimissimo vabbè faremo venire il nonna a casa tua a controllare ciao buona serata buona cena ciao buona serata abbiamo fatto tante foto insieme se ricordi l'ultima è stata l'estate scorsa con Emilio in Basilica Capuzzo certo che mi ricordo che siamo venuti abbiamo fatto lo spettacolo davanti alla Basilica della Medon du Pauz de Ca' Pauz è stato uno spettacolo bellissimo sai che c'erano anche i genitori di Luca a vedere lo spettacolo e so che si sono divertiti questo mi fa molto piacere perché quella è una bella famiglia tornando tornando al discorso Luca Medici ha uno strategia che a me piace molto cioè quello per far crescere sempre la creatività e quindi non scocciare è bella la cosa che lui ogni due anni fa uscire qualche film cortometraggio quindi quella creatività che si crea in due anni permette di poi di spopolare che poi spopoli con il nostro essere normale del sud perché al nord secondo me non capiscono la nostra ironia beh ormai sì direi ormai sì no io direi di sì su questo mi permetto di sentire sì ormai il nonno però non dice bene lui cerca di non inflazionarsi e fa bene è molto abile in questo eh certo è vero decisamente buona serata Francesco ciao Francesco buon tutto ciao ciao intanto ho visto che si è collegato anche Pino Campagna ma c'è di tutto no tutti stasera tutti stasera vedi al nord amano che vedi infatti è quello che dicevamo noi cioè che il pugliese ormai è sdoganato no ma tornando alla questione nord-sud ormai il nonno ha unito il Veneto e la Puglia io ho visto quel video ma che hanno detto i Veneti di quella di quella no senti in realtà allora questa è una bella cosa secondo me cioè non perché mi è passata per la testa però l'idea di fondere due lingue o due dialetti un po' come fece a Batanduono con il Terruncello che era che era metà pugliese metà bo non si capiva però questa quella quella era proprio il personaggio del Terrunciello dove lui da una parte prendeva il dialetto della mamma che era delle nostre parti e dall'altra degli amici che frequentava eccetera eccetera beh lui all'epoca spopolò con un che poi ricordiamo tutti cioè qualcuno ricorderà che ci fu pure una contesa c'era un altro che faceva che ti dico anche il nome Giorgio Porcaro si chiamava che noi abbiamo conosciuto esatto esatto Giorgio Porcaro cioè a dire il vero fu proprio lui il primo però anche sul comico bisogna raccontare un'altra cosa tutto è stato già inventato se tu fai una cosa e la fai così e poi arriva un altro che in maniera prorompente la fa anche meglio il comico non perdona la scena non perdona e quindi quello diventa più famoso e il comico è così non può essere diversamente no ma ti dico anche le frasi le frasi famosissime d'inchiostro di Puglia il bambino non mi mangia molte sono una citazione al grande Gianni Ciardo che ci costruiva dei monologhi certo Gianni Ciardo è quello che per prima ha cominciato a usare questo slang sopra la nonna basso la zia dentro sì 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 alla fine una questione pure che ci stanno non bisogna negare le influenze si va avanti i tempi cambiano e quindi è tutto un continuum quindi sì sono perfettamente d'accordo su questo anche voi per esempio come duo avete sicuramente avrete avuto influenze e avete influenzato fa parte della e comunque stiamo vivendo guarda io adesso non voglio menarmela perché poi a un certo punto comincio a menarmela quando inizio a ragionare invece io devo essere molto più leggero però quello che nessuno vuole capire è che non può esistere il bianco e il nero non vuol dire che per forza di cose uno debba stare nel grigio vuol dire che uno deve imparare a gestire la complessità perché niente fa allora se noi diamo la colpa a quello è sbagliato perché un po' di colpa ce l'ha pure quell'altro se noi diciamo che l'idea è solo di quello è sbagliato perché ce l'ha pure tu anche questi cartoni animati ma tu sai che padri putativi che hai prima l'abbiamo citato è chiaro abbiamo citato ridendo Walt Disney dicendo che gli faremo concorrenza a Natale ma ognuno prende da quello da chi lo ha preceduto quindi ci sta no è chiaro è chiaro ci sta certo 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 Michele se non c'è nessuno in fila noi ce ne andremo a mangiare con la zucchina andiamo a mangiare dai ringraziamo tantissimo Raffaele che ti mangi senti io io ho già mangiato un piatto di pasta e lentiglie a posto buono aiuto alla creatività la pasta era quella spezzata tutta diversa oppure era spezzata buono buono no spezzata ma io ti dico una cosa di Raffaele ma non so se te la posso te la posso dire o no però mi ha confidato che lui sa dove andare ad Asparagi sa i posti buoni ovviamente non lo dirà ma i posti degli Asparagi sono e dove stanno gli Asparagi quello trovo pure le cinque e me l'ha confessato questo posto una persona che siccome si è sposata e sposandosi non ha più tempo e io gli dicevo dai dimmi dove è il posto tanto non ci va è un segreto ti ho dato incomodato di un solo l'hanno scorso ogni sì di ogni anno scorso no dicevo mi ritirava tutti i giorni no scusa finissi tu vai allora l'anno scorso da aprile mi ritiravo ogni giorno a casa con una busta piena e quindi ero come dire cioè li abbiamo congelati quindi ci sono stati gli Asparagi allora lasciamoci con questa promessa mo che ti sposi quel posto lo dice a me Galgano che ci saremmo appena separati e andremo non da Asparagi va bene no prima a me prima a me va bellissimo se la dici vai Maldonio va e se li fa tutti lui promissio buoni mi riesto obbligatio Raffaele l'hai detto mo che ti sposi gli Asparagi sono i nostri va bene grazie mille Raffaele c'è stato gentilissimo grazie a voi grazie a tutto grazie buon tutto davvero ciao Raffaele buona serata a tutti ciao ciao grazie grazie a tutti